Seconda canzone del riepilogo, le opere di Bartolomeo, di Bardotti Cini, dirige il maestro addetto Mariano, canta la famiglia dei Causils. La 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 La, 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 la. Ti racconterò la storia del signor Bartolomeo Fanno un altro lavoro che non lo interessa più Sogno un attimo di gloria, non lo sogni forse tu 1111 buchi tutti in fila in questo pezzo di ferrocusi 1112 buchi tutti in fila in questo pezzo di ferrocusi Pensare che il mio sogno è la poesia 1113 buchi tutti in fila in questo pezzo di ferrocusi Ma il giorno mio verrà Il mondo si commuoverà Leggerà Le opere di Bartolomeo Chi mi fermerà Chi mi fermerà Chi mi vieterà Chi mi vieterà E ti vorrà O me vorrò Chi mi fermerà Chi mi fermerà Chi mi fermerà Quando io vivrò Nelle parole Descriverò 1114 buchi tutti in fila in questo pezzo di ferrocusi 1115 buchi E c'entra, 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 giorni e giorni tutti così Ma il mio destino è sempre là E Dio Io non ti spero Ma il giorno mio verrà Il mondo si commuoverà Leggerà 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 Le opere di Bartolomeo Leggerà Chi mi fermerà Chi mi vieterà Che vorrà O te vorrò Chi mi fermerà Chi mi fermerà Quando io vivrò, nelle parole descriverò Chi mi fermerà, chi mi fermerà, chi mi fermerà Chi mi fermerà